Vogliamo che sia salvaguardato il nostro diritto al lavoro. Questo è il drammatico appello delle cinque lavoratrici della cooperativa sociale Il Sollievo per dieci anni attive nel centro per il recupero neurologico Prima Stignano, adesso in località Carbone a Locri. Le operatrici che aspettano ancora cinque mensilità arretrate rischiano concretamente di trovarsi a fine mese senza lavoro e si appellano direttamente al commissario regionale per la sanità Massimo Scura e al governatore Mario Liverio. Dopo aver ottenuto una proroga di due mesi proseguiranno la loro opera fino a fine settembre. Chiediamo semplicemente, si legge nella lettera, un rinnovo a tempo determinato del nostro contratto in modo da poter poi partecipare ai concorsi per essere inserite nell'organico del servizio sanitario regionale. Dalle lavoratrici inoltre un invito a visitare la struttura rivolto proprio a Massimo Scura affinché si renda conto di persona della situazione così da consentire alla COP di andare avanti soprattutto per i ragazzi che ne sono ospitati affetti da gravi patologie. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la solidarietà dei genitori dei ragazzi ospiti del centro, si legge nella missiva, preoccupati come noi per l'assistenza futura ai loro figli.